sono dentro puoi farcela fate sì vado un'altra cosa la gruvers che sta parlando dell'invio di un'unità speciale potrebbe essere un nuovo drone o qualcosa di simile stati attenti tutti e due tagliamoci la parte mi copro io controllo qual è il protocollo in più e di palazzo affermativo un'altra cosa 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 negativo un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa una cosa una cosa una cosa un'altra 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 cosa mi spiace tanto oh sei più vecchio ma come sei gentile ah questo posto non è male già posso restare un po' tutto il tempo che vuoi e riguardo la corsa parla con Boardman ti spiegherai i dettagli il tizio nuovo sembra un po' teso Icarus è a posto nessuno corre meglio di lui nessuno parla con Boardman e vedremo ok ti aspetto ok ah mi stavo quasi dimenticando Dogen mi ha mandato i suoi saluti già poi penseremo anche a lui ok ora va stupiscimi a proposito Fate c'è un pacco per te credo che il contenuto ti piacerà i miei vestiti li ha portati qui Nomad subito dopo la tua cattura ho aggiornato il tuo pulsar con un modulo della mappa di classe ti servirà per muoverti in giro e... ti servirà per muoverti in giro e... qui qui si Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' molto felice di vederti. Lui è tra le poche cose che non sono cambiate affatto. Eccoti. Cosa vuoi? No, ti sto solo guardando mentre sei ancora intera. Sai, Dugan si aspetta un pagamento veloce. E lo avrà? Sì, certo che sì. Ora fila. La mia migliore amica è stata scarcerata e non viene neanche a trovarmi. Ciao, Nomad. Come va? Va molto meglio ora che sei fuori. E guarda caso il tuo aiuto potrebbe farmi comodo. Sto andando da Birdman. Sì, ho saputo. Per me il vecchio può aspettare ma... Sì, ho saputo. Sì, ho saputo. Sì, ho saputo. Non cadere. Eccola, in carne e ossa. Con tanto di vestiti. Grazie di averli tenuti. Com'è andata? Ah, il solito. Me la cavo. Tiro avanti. Mi mancavi? Ma non esagerare. Ma non esagerare. Che aiuto ti serve? Sono gli esiliati nelle zone grigie. Stanno allestendo un sistema per segnalare gli assalti Krugersec. Ma servono chip di controllo che si trovano nei ripetitori della Holcom. chip di controllo e i ripetitori. Ok. Prendendo i chip causerai problemi alla Holcom e al tempo stesso aiuterai gli esiliati. Ce la farai? Certo. Mi conosci. Aiuto sempre chi ha bisogno. Puoi far finta di niente, ma io so perché ti hanno richiusa. Sì, sono stata stupida. Dove trovo i ripetitori? Non lontano. Disegno le posizioni. Ok. Vado. 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 Ho già altri componenti per gli esiliati. Mancano solo questi chip. Ha preso il primo chip. Ottimo. Il prossimo ripetitore dovrebbe essere vicino. Ne vuoi bisarti, Fate. Di recente ci sono in giro più battuglie Krugersack del solito. Mi fanno sul serio. Vado a movimento. Non dovresti essere vicino. Mi sistemo io. Muzie a tutti. Ho appena preso un altro chip. Eccellente, farà la differenza, te l'assicuro. A proposito, hai poi parlato con Dogen, con la voce che tu gli debba parecchio per quel che hai fatto. Non ho ancora. Bene, sono certo che troverai una soluzione. Altrimenti verrò con te quando andrà in esilio. Domineremo le zone grigie. Confinare è una seria violazione del... Controllo qui. Controllo, qui c'è un runner. Lo arrestiamo. Sì. Va bene, controllo. Lo colio! Ne ho preso un altro. Ottimo. Ancora uno e poi ti lascerò in pace. Occhie aperti, c'è. Tu, presto dove sei? È sola? Controllo, passiamo alla neutralizzazione. Controllo, arrestiamo... Controllo, neutralizziamo... Vendetela! Non durerò! Non durerai! Non durerai! Non soffrirai, no. Ok, ho preso l'ultimo. Bene, ma abbiamo un problema. Dalle tue parti c'è un membro della casta bassa nei guai. Ascolta. No! Scansiona di nuovo il codice. L'ho fatto. Avresti dovuto essere in viaggio verso la nutricupola Epsilon tre giorni fa. Arrestatelo. Fate, Nomad, che succede? C'è la crew, Kersak. Come se in prigione non ne avessi avuto abbastanza. Fate, stanne fuori. Ti avevo detto che succede continuamente. Non è la tua battaglia. Sì che lo è. Arrenditi! Subito! Controllo! Controllo con le spalle! Controllo! Qui c'è un run! Neutralizziamo! Pensiamo al fuoco! C'è lui! Ehi, tutto a posto. Ho pensato io a lui. Grazie. Grazie, è finita. Ho visto tutto, Fate. Te l'ho detto che non potevi ingannarmi. Ha appena aiutato quello della casta bassa, no? Sì. Ha preso dai suoi genitori. Lo fici come se fosse una brutta cosa. Me l'immaginavo. Dove? Il marcatore sulla mappa indica un punto di consegna. Sì. Sì. Sì.